Musica Cari amici ben trovati a una nuova puntata di Canale 10 VIP e oggi in studio è venuto a trovarci un amico Samuele Baldini, capogruppo PD e il consiglio provinciale di Firenze Lei è ancora molto giovane però è già arrivato veramente diciamo ad alte vette la politica è un mestiere come un altro oppure ci vuole anche della passione? Bella domanda, io credo che la politica sia un mestiere come un altro laddove è incentrata nella passione qualunque mestiere diventa faticoso se non c'è passione e in particolar modo la politica prima di tutto la politica non deve essere un mestiere perché è bene che ognuno di noi abbia la propria vita personale la propria vita soprattutto lavorativa anche se a volte è difficile conciliare le due cose lavoro, famiglia, politica e spesso lavoro e politica come è successo anche a me diventano tutt'uno a volte nei percorsi della vita sarebbe bene scindere le due cose io credo però che come gli altri mestieri laddove c'è passione si riesce anche a fare meglio politica e si riescono a fare meglio anche gli altri mestieri assomiglia più al cuoco che al muratore diciamo per la passione sto dicendo ma ci vuole tanta calcina anche in politica ma sì però diciamo la passione sì 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 è vero assolutamente sì se non c'è quella passione per impegnarsi diventa faticoso fare tutto penso un politico vero sto dicendo poi diciamo per impegnarsi per il proprio comune la propria comunità questo tra l'altro è anche un momentino caldo per la nostra politica si può dire il presidente Berlusconi dice chi non vota la fiducia tradisce così? beh i cittadini nel 2008 hanno dato un segnale chiaro con le elezioni politiche dando appunto una maggioranza senza uguali al presidente Berlusconi, al Popolo della Libertà e alla Lega e ad altri movimenti alleati oggi c'è una diversa opzione politica all'interno del centro-destra che si chiama appunto Future Libertà legittimamente istituita, creata una costola diciamo osil del Popolo della Libertà al quale partito io riconosco anche una colpa tra virgolette se così si può dire di aver contribuito a creare una diversa opzione politica legittima l'opzione politica non tanto legittima e non sarebbe comprensibile davvero il fatto di dover staccare la spina al governo Berlusconi La guerra tra Berlusconi e Fini però ha portato appunto come già ha detto a questa scissione nel PDL secondo lei non sarà un po' pericoloso se si dovesse andare a votare? Perché comunque c'è un seguito Certo, non c'è dubbio anche in Toscana lo vediamo che c'è un seguito che c'è una volontà di struttura di questo nuovo partito Io credo che di tutto il paese abbia bisogno tranne che delle elezioni lo diciamo, lo dicono anche coloro che stanno dall'altra parte al Partito Democratico in altre formazioni all'opposizione penso all'Udc Sì, bisogna fare finire questo governo Esatto, io credo che comunque sia in questi due anni questo governo con tanti alti e bassi non c'è dubbio abbia lavorato bene soprattutto per fronteggiare la crisi nella quale anche il nostro paese è inserito nel cercare di tutelare chi quel posto di lavoro purtroppo a causa della crisi l'ha perso non mettendo le mani in tasca degli italiani e affrontando emergenze ogni giorno direi dall'emergenza rifiuti ai terremoti alle inondazioni come in Veneto a quelle che abbiamo visto anche in questa nostra regione a Natale dell'anno scorso per cui io credo che davvero proprio per quelle cose fatte potevano essere fatte meglio non c'è dubbio ci sono ancora tre o quattro riforme in piedi questa settimana ci sarà la riforma dell'università che tanto clamore sta facendo in questo paese io credo che questo governo debba andare avanti mi auguro perché il paese non ne ha bisogno che non si vada a nuova lezione Senda cosa dite voi ora in seno del partito i giovani soprattutto di un certo comportamento diciamo così anche se è una cosa privata del vostro leader insomma guardi il presidente Berlusconi ha nei tanti pregi ai quali noi ci riconosciamo quella che li riconosce nella determinazione nella volontà anche forte di portare avanti un sogno rivoluzionario della comunicazione non c'è dubbio che ha cambiato anche il modo di fare politica in questi anni nel nostro paese al quale poi si sono accodati un po' tutti si pensi ai manifesti 6x3 ai video messaggi in televisione ad una comunicazione tra virgolette e la televisione lì era un po' più facile che ad altri ma certo è un animale televisivo se così si può dire al merchandising politico alla rivoluzione delle piazze cioè nei gazebo che è figlia di Forza Italia e di Berlusconi e del PDL poi ci sono appunto tutta una serie di percorsi che ritengo squisitamente privati ed è vero che quando un uomo è talmente così pubblico come lo è il presidente del consiglio la sfera pubblica e la sfera privata il confine che separa le due sfere spesso si assottiglia ed è bene avere in pubblico tanto in privato un comportamento che spesso in pubblico ha anche se nelle sfaccettature nei modi di fare dialoganti alcuni dicono sopra le righe secondo me no che si hanno anche ben avere nelle due sfere un comportamento appunto consono queste cose è vero non hanno fatto bene questo lo dite anche voi lo riconosciamo certo non è che viviamo la critica che uno può fare anche il suo zio il suo amico certo molto è costruito ad arte da certi giornali da certa stampa da un'opposizione che si attacca ma da qualche cosina di vero sì però da qualche cosina di vero pare chi lui ha negato di aver detto che Rubi è la nipote di Mubarak voglio dire per sdramatizzare la cosa perché è fatto oramai cosa anche vecchia però si costruiscono e da lì si vedono i pochi argomenti qualcuno ha delle cose toccando appunto la sfera la sfera privata non avendo altri argomenti poi è vero ci sono degli errori non solo nella politica è un po' la vita purtroppo sul giornale finisce tutto e tra i suoi avversari politici chi stima? io sono cresciuto politicamente in questa terra che non ci è favorevole come centrodestra perché siamo all'opposizione esatto siamo all'opposizione in 41 su 43 comuni della provincia di Firenze siamo in opposizione nella provincia siamo in opposizione in regione toscana diciamo che la toscana non sarebbe stata non è la parte giusta forse che abbiamo scelto assolutamente no però devo dire che in questi anni pur dall'opposizione abbiamo incontrato e ci siamo confrontati anche solo per le campagne elettorali con una serie di personaggi che stanno dall'altra parte dagli amministratori locali ai tanti sindaci io credo che al di là della connotazione politica spesso caratterizzata da un forte anti-berlusconismo che caratterizza e scusatemi gioco di parole e sintetizza molti amministratori locali ci sono però tanti sindaci in questa nostra provincia che conosco molto bene che sono dei bravi amministratori che lavorano davvero quotidianamente quindi loro le stima io stimo davvero l'amministratore il sindaco che secondo me è il mestiere più bello d'Italia del mondo perché si vedrebbero da mani sindaco volontieri guardi io ho avuto la straordinaria fortuna di fare il candidato alla presidenza della mia provincia lo sappiamo dove sono cresciuto dove lavoro dove ho la famiglia e dove appunto qualche anno fa ho iniziato a fare a fare politica anche se perdente l'essere candidato a sindaco del proprio paese dove uno nasce lavora risiede eccetera e soprattutto della provincia credo sia la soddisfazione forse più bella per chi fa politica sapevamo che era perdente sapevamo che di fronte avevamo un candidato l'attuale presidente Barducci che è una brava persona ed è uno fra i quali quindi è un'altra persona che stimo è una persona che stimo anche se siamo come dire competitor eravamo e lo siamo oggi lui al governo io come capogruppo del PDL o del partito di maggioranza all'opposizione credo però appunto che sia una grandissima soddisfazione se domani avessi l'opportunità di correre per sindaco del comune nel quale sono cresciuto più che nato che è Pontassieve credo per me sarebbe un onore pur sapendo che lì si perderebbe 70-30 che lì si perderebbe 70-30 insomma si perde già 70-30 però credo anche solo il partecipare in questo senso rafforza il legame con il territorio e per me che è stata l'anno scorso è stata un'esperienza indimenticabile Matteo Renzi le piace? Matteo Renzi appartiene a quella generazione che è anche un po' la mia anche se ha qualche anno in più che è appassionata da questo mondo vedo molta passione nel sindaco quindi la passione nel fare quello c'è anche un obiettivo nel fare quello che si fa magari non è solo quello di fare il sindaco di Firenze come leggiamo dai giornali in questi giorni dai rottamatori alle polemiche nel partito democratico a livello nazionale promosse dal sindaco Renzi al di là di qualche cosa fatta che riconosciamo anche noi la pedonalizzazione di Piazza Duomo si e poi addirittura si è trovato d'accordo con certe cose esatto che eravamo anche noi nel sindaco Galli nel candidato sindaco Galli erano nel programma dall'aver tolto anche quell'orrenda cosa che era la pensilina alla stazione che oggi ha un'altra visuale un altro respiro non c'è dubbio però rimangono ancora incompiuti ma soprattutto cosa vorrà fare non si sa sulle grandi questioni amministrative di Firenze dalla viabilità al piccolo commercio a tutta una serie di problemi che questa città ha e dei quali soffre e che ancora aspettano risposte magari lo chiederemo a lui questo scusi un'ultima domanda il nostro governatore Enrico Rossi vorrebbe dare una mano a Napoli alla campagna per smaltire i rifiuti il vostro partito come la pensa? guardi noi discuteremo nelle prossime ore nei prossimi giorni un'interrogazione che abbiamo presentato al presidente della provincia Barducci ricordo la provincia ha competenza in materia dei rifiuti fa il piano provinciale dei rifiuti un'interrogazione per chiedere se è d'accordo e come soprattutto si farà in questo senso io credo in questo paese si è formato il prossimo anno saranno 150 anni dell'unità d'Italia su un forte spirito di solidarietà dal nord a sud che nessuno neanche la Lega credo voglia spezzare e dividere però la solidarietà non deve essere la risposta all'inefficienza e all'incapacità amministrativa di altri a Napoli c'è stata e in tutta la Campania c'è stata una sottovalutazione del problema direi anche un'incapacità nella gestione del problema che altre regioni oggi si accollano vedi la nostra è un fatto forte di solidarietà ma che non risolve l'incapacità e l'inefficienza degli amministratori campani chiudiamola qua perché il nostro tempo è passato perché ci sarebbe da continuare su questo tema ma lo possiamo anche fare magari un'altra volta grazie mille Samuele Baldini e le auguro prima o poi di diventare sindaco a questo punto grazie ciao cari amici alla prossima ciao